in un altro atelier. Avevo avuto un'esperienza un po' difficile perché non mi era stato consentito di provare tanti modelli. Mi chiamo Maria Cristina, sono una sposa del 25 giugno e ho scelto il mio abito qui da Lady Anna dopo essere stata in un altro atelier dove avevo avuto un'esperienza un po' difficile perché non mi era stato consentito di provare tanti modelli o meglio non ero riuscita magari a provare quelli che avrebbero forse realizzato il mio sogno. Mi ha consigliato di venire qui per la vasta gamma di abiti che avrei trovato e che ho trovato e perché sarei riuscita a trovare questo abito che poi si è rivelato essere l'abito giusto per me. Io consiglio a tutte le future spose di venire qui perché per me è stata un'esperienza meravigliosa, hanno saputo placare ogni mia ansia, sono stati sempre disponibili ad accogliermi anche in appuntamenti straordinari e a rispondere a tutte le mie esigenze. Vi ringrazio di cuore ancora oggi e spero davvero che possano venire qui da voi tante ragazze, davvero grazie di cuore.